a differenza di quanto anticipato qualche video fa due video fa per la precisione so che vi aspettavate quindi oggi un video su una quadruple belga sempre per alternare le quattro quadruple belghe a quattro quadruple italiane ma oggi abbiamo un'altra quadruple italiana anche perché mi sono accorto che fare 4 più 4 forse diventava un pochino lungo e ci mettevamo due mesi solo a parlare di quadruple e poteva essere non molto interessante anche perché facendo un solo video alla settimana al momento avremmo avuto appunto 8 video quindi due mesi solo dedicati alle quadruple ed era un po' pesantino effettivamente inoltre le quadruple che mi ero segnato di affrontare belghe mi sono accorto che ci sono quasi tutte già su questo canale Rochefort 10 c'è già, Scime Blu c'è già, Vesvla Terren 12 c'è già e anche San Bernardus a BT12 e appunto un confronto con la Vesvla Terren 12 c'è già un video dedicato a quell'argomento quindi ho pensato facciamo un'altra quadruple italiana anche oggi e poi vediamo di alternare un po' giusto per cambiare un pochino argomento e non stare sempre fossilizzati su uno stile e infatti la quadruple di oggi è una quadruple italiana non credo servano particolari presentazioni per la quadruple di Extra Omnes Prima di passare alla birra, visto che si sta avvicinando il periodo di Birra Attraction la fiera di Rimini di metà febbraio volevo chiedervi se pensate di partecipare a questa fiera se in tal caso io riuscirò a esserci purtroppo solo un giorno, solo il lunedì, lunedì 17 se qualcuno di voi dovesse essere in fiera quello stesso giorno magari se riusciamo a vederci possiamo anche incontrarci di persone e scambiare qualche parola ma adesso torniamo al soggetto di questo video, ossia alla Extra Omnes Quadruple vediamo quindi la scheda di questa birra, appunto Extra Omnes, il birrificio il birrificio si trova a Marnate, Varese, in Italia ovviamente il nome di questa birra è appunto Quadruple lo stile è una Belgian Dark Strong Gale, categoria 26D se ci vogliamo tenere al BJCP oppure possiamo anche, come suggerisce il nome, indicare lo stile più semplicemente come Quadruple volume alcolico di questa birra 9,3 gradi il costo di questa birra è acquistata in un beer shop 4,20 euro questa bottiglia da 33 centilitri bicchiere suggerito per questa birra, una coppa trappista e no, non si tratta di un primo assaggio vediamo quindi, come al solito, l'estetica di questa bottiglia da 33 partendo quindi dal tappo il tappo è nero e riporta semplicemente la scritta e il logo di Extra Omnes mentre per quanto riguarda l'etichetta c'è una singola etichetta piuttosto ampia, frontale, con il logo di Extra Omnes sempre con questo cane, con il guinzaglio rosso la scritta Extra Omnes e il nome della birra Quadruple altre informazioni interessanti, ovviamente gli ingredienti malto d'orzo, zucchero, lupolo lievito come al solito, zucchero è presente dopo malto d'orzo e prima di lupolo quindi ci aspettiamo che quantitativamente lo zucchero è superiore la quantità del lupolo e infatti per questo stile ci aspettiamo sia un elevato grado alcolico sia ovviamente una dolcezza caratteristica appunto dello stile altre informazioni importanti che non sempre vengono riportate ma in questo caso apprezziamo molto il fatto che ci siano la temperatura di servizio che per queste birre è tra i 10-12 gradi come al solito, una temperatura di servizio troppo bassa per questo tipo di birre in generale per molte belghe, ma soprattutto per birre complesse potrebbe andare un po' a limitarci, diciamo, lo spettro, il ventaglio aromatico 12 gradi invece può essere già una temperatura perfetta per riuscire ad apprezzare al meglio la complessità soprattutto al naso di questa birra sull'altro lato viene riportato il lotto e la scadenza la scadenza è fine 2020 in realtà queste sono birre che secondo me possono anche invecchiare un po' e andare ad essere consumati tranquillamente dopo la data di scadenza mi è capitato di bere, credo fosse una Rochefort forse che avevo lì ed era già scaduta da qualche mese e ovviamente al di là di forse un leggero calo sulla complessità aromatica tutto sommato secondo me era ancora in ottimo stato sempre conservato al buio, sempre al fresco a cui è stata così come era dal beer shop e messa nell'armadio in questo caso siamo perfettamente in tempo manca ancora un anno praticamente alla scadenza come anticipato il bicchiere in questo caso è una coppa è un bicchiere neutro ma ricorda molto sia per la forma sia per le dimensioni ovviamente le coppe trappiste quali il bicchiere utilizzato per le birre di scime, per Orval per lo stesso Vesvletter è una forma molto simile insomma molti bicchieri legati alle birre trappiste hanno questa forma forma aperta che in questo caso su birre così carbonate comunque non vanno a inficiare lo strato di schiuma ma che sarà sicuramente abbondante e riuscirà a proteggere la birra ok direi che abbiamo già parlato a sufficienza per quanto riguarda tutte le caratteristiche dello stile delle quadruple vi rimando ovviamente ai video precedenti allo scorso video con la Elbrose Denix Beer o quello precedente con la Rochefort 10 dove abbiamo un po' introdotto questa mini rubrica sulle quadruple oppure se cercate sul canale trovate sicuramente sia un video della San Bernardus 12 sia il video della Vesvletter in particolare forse per avere una descrizione un po' più ampia vi rimando proprio al video sul confronto Vesvletter in 12 e San Bernardus a VT12 dove è stato un po' diciamo fatto il punto della situazione sia per quanto riguarda la produzione dei birrifici trappisti e delle quadruple sia per quanto riguarda appunto le linee guida generali di questo stile così affascinante così appunto legato alla cultura brassicola belga e alla cultura brassicola trappista e che ammetto trovate spesso su questo canale perché sì è uno dei miei stili preferiti sicuramente ok direi che abbiamo già parlato abbastanza questa birra è giunto il momento di servirla tenendo la bottiglia a questa altezza riesco a valutare abbastanza bene nonostante la birra sia molto scura riesco a valutare quando arriva il lievito e mi pare di vedere già eccolo qua infatti le prime parti di lievito che si era depositato sul fondo che incomincia a uscire quindi mi fermo c'è ancora un goccino di birra come al solito ma qui è presente solo il fondo di lievito quello che notate anche in questo caso anche se c'è una schiuma non bianca ma appunto color crema notate quando state versando anche il lievito perché iniziate a vedere nel punto in cui la birra colpisce la superficie della schiuma che già ci sono delle piccole parti in sospensione più scure che sono appunto gli ultimi aggregati di cellule di lievito che si erano depositate sul fondo come al solito se volete versare il lievito non volete versarlo è una precisazione che facciamo sempre ma appunto sta al vostro gusto personale e secondo me è il fatto se conoscete o non conoscete questa birra e ovviamente è lo stile di birra in caso di birra che non possono essere versate magari in un solo colpo in questo caso può non essere pericoloso comunque non andare a inficiare la degustazione del fondo di lievito in altri casi invece potreste scegliere di consumarlo o degustarlo a parte passando ora invece all'analisi descrittiva di questa birra la schiuma non è particolarmente abbondante e come vedete non è particolarmente persistente si è smontata in parte anche se vedete che appunto resta comunque sul bordo del bicchiere il classico pizzo attaccato appunto alla superficie interna del bicchiere il colore della schiuma come anticipato è un bellissimo colore crema mentre la birra allora un colore sicuramente piuttosto scuro non è completamente impenetrabile il colore della birra però direi che è un ambrato molto molto carico e puntandola verso la luce si vedono dei riflessi un pochino più chiari tendenti al rosso rubino direi che possiamo passare quindi al naso allora come ci aspettavamo una discreta complessità c'è sicuramente in questa birra l'intensità aromatica non è elevatissima è media direi o medio-bassa e ciò che troviamo nei descrittori allora ci sono tante cose interessanti iniziamo in ordine decrescente per intensità ciò che sicuramente colpisce per maggiore intensità sono due componenti una che è quella fruttata che ricorda secondo me della frutta rossa la seconda componente molto forte che ritroviamo al naso è sicuramente la parte legata ai malti legata ai malti caramellati legata appunto al caramello al cioccolato in piccola parte anche al pane c'è un buon profumo di pane molto molto buono secondo me e la cosa interessantissima di questa birra che spesso su birre così alcoliche già emerge una nota alcolica già al naso che in questo caso invece non troviamo ciò significa ovviamente che è stata si è fatto un buon lavoro per nascondere bene il grado alcolico infatti sapete che molte birre soprattutto gli stili tipici della tradizione belga hanno tassi alcolici molto elevati ma molto ben coperti e bilanciati appunto dalla scelta e dell'utilizzo dei malti vedremo se sarà la stessa cosa anche in bocca quindi questo alcol così nascosto che ammetto rende questa birra pericolosa perché appunto è estremamente facile da bere e vediamo vediamo quindi se anche in bocca ritroviamo le stesse cose beh anche in bocca effettivamente ritroviamo molto di quello che già abbiamo trovato con il naso e ci aspettavamo ovviamente poi di ritrovare al palato partendo dal gusto sicuramente qui il gusto dominante come ci aspettiamo in questo stile è il dolce dolce che sicuramente ha la meglio sulle altre componenti gustative c'è anche una componente di amaro seppur leggera molto leggera ma bilancia un po' questa dolcezza elevata ma appunto l'amaro è sicuramente in secondo luogo per quanto riguarda i gusti rimanenti non vi è traccia né di acido né di salato né di umami ovviamente passando quindi alle sensazioni bocali di questa birra il corpo devo dire che non è particolarmente corposa è un corpo medio e sempre per stare sulle sensazioni boccali la frizzantezza devo dire la carbonazione di questa birra è piuttosto bassa già un pochino ce l'ospettavamo con la schiuma e rispetto ad altre birre per esempio una delle ultime registrate su questo canale la Roche410 che presentava una buona frizzantezza questa è sicuramente meno frizzante passando poi a tutto ciò che sono le sensazioni del retrogusto del retro olfatto beh c'è ancora tanto tanto di quello che già avevamo trovato nel naso frutta rossa per esempio qui la ritroviamo a me vengono in mente come al solito in queste birre uvetta e le ciliegie sotto spirito sono secondo me una buona descrizione di ciò che troviamo in bocca soprattutto nella persistenza gustativa che ci rimane in bocca altra cosa interessante c'è qualcosina che mi ricorda anche o la frutta secca ma mi ricorda anche soprattutto sul retro olfatto il profumo dei datteri c'è questo descrittore sicuramente e ovviamente ancora tanto caramello tanto miele insomma i malti sono i protagonisti indiscussi di questa birra di lupolo non troviamo particolari descrittori altra caratteristica secondo me molto interessante di questa birra è una persistenza gustativa molto prolungata spesso questo effetto viene ottenuto con delle lupolature generose comunque un amaro che persiste in bocca in questo caso sicuramente l'amaro è molto delicato è quasi nascosto da tutti gli altri gusti da tutte le altre sensazioni gustative ciò che persiste quindi non è l'amaro ma questa dolcezza mai stucchevole che appunto continua anche dopo aver bevuto anche dopo aver deglutito il sorso anche adesso mentre sto parlando mi rimane questo sapore in bocca appunto un po' caramelloso un po' adatteroso dal mio punto di vista è mieloso anche dopo appunto aver bevuto l'ultimo sorso altra caratteristica che rende questa birra ancora interessante secondo me è come anticipato prima l'alcol perché davvero stiamo parlando di una birra da 9 gradi abbondanti 9,8 gradi quasi 10 gradi è un alcol nascosto perfettamente dall'utilizzo ovviamente dei malti in modo perfetto che vanno a bilanciare il tenore alcolico ricapitolando quindi questa è un'altra secondo me ottima quadruple italiana e si tratta appunto della Extra Omnis Quadruple Skoll a presto